Bene, avevamo già anticipato che il tema di cui si sarebbe parlato sarebbe stato quello del De Vulgari Eloquenzia, nella interpretazione che ce n'è da Sini in Idioma, il libro che stiamo seguendo passo per passo. Qui si parla innanzitutto della genealogia della lingua italiana. La lingua italiana è qualcosa che ha una sua storia, un suo iter molto profondo, anche se ci è stato detto precedentemente nella Rinascenza Carolingia, in quel capitolo sulla Rinascenza Carolingia, che noi non possiamo dare conto di una lingua italiana, in quanto la lingua è il presupposto affinché qualcosa come la storia della lingua italiana possa emergere. Cioè, lo possiamo fare veramente in qualsiasi modo, ma dobbiamo essere consapevoli di questa paradossalità che viene abitata nel discorso. Ebbene, l'inizio della lingua è qualcosa che ha origine nel latino, il latino è il fondamento della lingua italiana. E soprattutto quel latino non letterario che noi possiamo cogliere, per esempio nei graffiti pompeiani del 79 d.C., che era testimonianza di quel volgare che veniva parlato e che era differente dalla lingua letteraria, di cui abbiamo ampissima testimonianza del periodo repubblicano e poi imperiale. Naturalmente questo è il fondamento, ma la lingua parlata ha le sue gambe e quindi procede autonomamente e indipendentemente poi dalla lingua ufficiale. Per esempio abbiamo nel V secolo d.C. una lista di parole che un maestro utilizzava per correggere gli alunni. E questo testo è noto ai più come appendix probi e fa vedere quali erano gli errori più comuni dei bambini. Per esempio scrivevano acqua e non acqua, cioè scrivevano l'acqua col cq, così come ancora oggi si fa, e non con la q e basta come la tradizione latina classica voleva. E ancora scrivevano calda anziché calida. A noi oggi diciamo calda, per esempio l'acqua è calda, e non calida. Quindi ecco tutti gli errori che i bambini commettevano, ma che erano espressione di una lingua viva in mutamento. E quindi noi oggi siamo eredi di questi errori, per così dire, dei bambini. La lingua italiana è in cammino come metamorfosi involontaria del latino. È qualcosa che ancora oggi sta accadendo. Pensiamo soltanto al fatto che si utilizza gli per parlare del femminile o del plurale. Io gli ho detto, oggi è qualcosa che viene continuamente fatto, e questo gli sta ad identificare quello che una volta era il significato, la preposizione personale loro, e anche le, io le ho detto, io ho detto loro. Oggi è sintetizzato, io gli ho detto, come se ci si rivolgesse a un lui. E quindi ecco che la grammatica, da un lato, è qualcosa che fossilizza e fotografa la realtà linguistica in un certo momento, con anche tutto ciò che riguarda l'ortografia, ma dall'altro lato la lingua vive, e vive anche nella sua scrittura. Quindi Carlossini cerca di identificare questa genealogia della lingua italiana, tratteggiandone in qualche modo una storia. E lo fa anche considerando tutto il meticciamento che poi l'italiano ha subito, cioè quella sorta di misto fra latino e italiano che veniva parlato, ha subito nell'incontro con le lingue dei goti prima, dei longobardi poi, lo abbiamo visto, tante parole come stamberga, come appunto quelle che abbiamo citato nella lezione precedente, stinco, schiena, panca, balcone, ecco. Naturalmente non ci fermiamo però ai longobardi, perché poi abbiamo già visto, arrivano i franchi, e poi i sassoni, e poi la dominazione araba, non in tutte le parti dell'Italia, ma ovviamente ci sono varie e infinite dominazioni, fino a quando nel 960 d.C. abbiamo delle testimonianze finalmente scritte di alcune prassi legate ai pubblici processi. Abbiamo per esempio il Placiti Campani o i Placiti Cassinesi, che sono delle formule di giuramento che venivano pronunciate da chi partecipava a questi processi, appunto, e che venivano non pronunciate in latino, ma nella lingua del popolo che veniva parlata dai più. E quindi già qui possiamo avere delle testimonianze scritte di quel volgare, di quel che veniva parlato. Ma testimonianze ancora più autorevoli si avranno di lì a poco, dopo qualche centinaia di anni, Francesco d'Assisi predicherà in volgare, proprio rivolgendosi ai poveri e agli ignoranti, e scriverà anche il Cantico delle Creature in questa lingua, così come anche Giacopone da Todi, che è molto vicino, tra l'altro a D'Assisi, la città di Todi, aveva fatto e farà. Dall'altro lato abbiamo anche ulteriori testimonianze molto importanti del volgare nella sua forma scritta. Abbiamo infatti l'archivio Datini, che va dal 1300, di questo importante mercante, Datini, un mercante fiorentino, che scrive tra il 1335, ci dice Carlosini, e il 1410, in una prosa commerciale che ci rende conto di come scrivesse e pensasse un personaggio della borghesia fiorentina del tempo. Abbiamo infine, ma non infine dire il vero, la scuola poetica siciliana, nella grande curia di Federico II, che favoriva la laicità e il pluralismo delle prospettive culturali. Ecco, e qui abbiamo quindi tutta quella scuola dei poeti siciliani, a cui lo stesso Dante si ispirerà in qualche modo quando farà la sua operazione. E infatti poi abbiamo il volgare aulico di Dante, di Boccaccio, di Petrarca, che si modellano sul volgare fiorentino, e quindi in qualche modo manifestano una vita della lingua fiorentina in quel tempo. Il 1525 è un'età anch'essa importante, in quanto abbiamo il primo testo, edito da Pietro Brembo, che era un grande... edito da Aldo Manuzio, che era un grande editore veneziano, che pubblicò una serie di classici, tra cui appunto questo di Pietro Brembo, che si intitolò Prose della volgare lingua, e che favorì la diffusione del volgare. Lo stesso Brembo e lo stesso Manuzio favorirono, con quest'opera e con altre opere in volgare, favorirono la diffusione della lingua di un italiano comune, in questo senso. Anche tra le classi colte, tra le classi letterate, che avevano accesso alla cultura libresca, che era qualcosa, ai tempi, di accessibile veramente a poche persone. Di una certa elite di carattere culturale ed economico, oltre che aristocratico. Nel 1612 abbiamo il primo vocabolario della lingua italiana, dell'Accademia della Crusca, e qui si sancisce in maniera ufficiale la lingua italiana, come nel suo momento di nascita. E ancora oggi, infatti, l'Accademia della Crusca monitora costantemente la lingua e analizza la studia, così ci riferisce Carlosini, ed è infatti vero. Manzoni poi farà una serie di riflessioni sulla differenza sussistente tra la lingua letteraria e la lingua quotidiana, che vede l'Italia divisa in due parti, ma frammentata, anche scissa, schizofrenicamente quasi. Abbiamo da una parte lo stesso Manzoni, che parla in milanese a casa, in francese, in salotto, e scrive poi in un'altra lingua, questo è già stato detto nell'introduzione, di come la figura del Manzoni paradigmaticamente possa essere presa come una persona che abita mondi discursivi e linguistici estremamente variegati ed eterogenei contemporaneamente. Ed è proprio il Manzoni, però, a eleggere il fiorentino colto, che quindi non è il fiorentino letterario, a lingua italiana per eccellenza. Nel 1868, quando poi diventerà proprio, ed è noto questo ai più, un senatore del nuovo regno d'Italia, che si era formato da lì a pochi anni, scrisse al ministro Broglio di cercare di diffondere l'unità della lingua italiana e di imporre quindi questa unità della lingua italiana con tutti i mezzi possibili, soprattutto attraverso lo studio dell'italiano in tutte le scuole del paese, in modo che quel dialetto che era parlato di più potesse venire in qualche modo eradicato per accedere a questo livello di una dimensione unitaria, anche da un punto di vista linguistico, non solo da un punto di vista geografico e politico. C'è una lingua che spontaneamente si pone quando si pone il problema della lingua, e questo è un punto inaggirabile, però, fa notare Carlosini, che è quello che dicevamo prima, cioè nel momento in cui noi ci poniamo l'idea di cosa sia la lingua, quali sia la storia della lingua, lo facciamo a partire da una lingua, non possiamo aggirare questo momento centrale, cioè questa strozzatura che noi abitiamo da un punto di vista discorsivo. Quindi anche Manzoni potrebbe essere considerato, secondo l'espressione di Carlosini, una incarnazione irripetibile di un tipo di vita umana così e così, e da questo plesso verbale nasce il problema della lingua, e da lì che nasce il problema, è la lingua manzoniana, con tutta la sua unicità che il problema della lingua si fa presente per una cultura, per un popolo. Quindi il problema della genealogia della lingua italiana non è un problema in sé, in quanto tale, ma è un problema che emerge come conseguenza diretta del fatto che c'è una lingua, e che c'è una lingua che è presupposta in questo intreccio continuo di pratiche, che fa sì che noi ci domandiamo quindi che cosa sia quella lingua che usiamo quotidianamente. Ecco, questo lo abbiamo già fatto notare prima in un altro modo, ma sotto una nuova prospettiva, qui Carlosini ci propone lo stesso problema, a partire da tutta questa considerazione di carattere prettamente storico e genealogico della lingua italiana. Vi è quindi un secondo capitolo in cui si affronta, un secondo capitoletto interno a questo macro capitolo De vulgari eloquenzia, in cui Carlosini affronta magistralmente il De vulgari eloquenzia, che dà il titolo al capitolo. E il De vulgari eloquenzia è un testo di Dante, e vi è nota, lo stesso Carlosini, che è scritto in latino, quindi parla della lingua vulgare ma lo scrive in latino, quindi si rivolge ad una classe colta che conosce questa lingua dei letterati, naturalmente diversamente dalle scelte stilistiche fatte per la commedia, ad esempio. E in questo testo, scritto in latino, Dante osserva che il latino era una lingua di pochissimi, e quindi una lingua riservata a una élite culturale, a cui pochi avevano accesso, e la contrappone invece alla lingua vulgare, che invece è parlata dai più ed è viva, spontanea, mentre la lingua latina è in qualche modo irrigidita. Il vulgare è una lingua che Dante definisce lingua materna, perché nasce dalla relazione tra i parlanti, nasce nell'elemento di interazione con i genitori, è una lingua quindi non artificiale, non costruita dai grammatici, come è quella latina. La lingua latina è una lingua che non si parla più, è una lingua morta, diremmo oggi, ma è una lingua soprattutto che nemmeno i latini stessi parlavano, così come la si studiava ai tempi, e così come anche noi oggi per chi studia al liceo classico o chi si laurea in lettere antiche o moderne fa. La lingua latina che noi abbiamo non ha niente a che vedere con lo spirito originario dei latini che parlavano il latino, e tra l'altro non ha niente a che vedere nemmeno con la lingua latina scritta, ne è una formalizzazione, è una formalizzazione di quella lingua scritta da qualcuno più di duemila anni fa o anche meno di duemila anni fa, secondo degli autori, naturalmente. Ecco che cosa fa, quindi, l'operazione dantesca è quella di mettere in evidenza questo aspetto della lingua materna, cioè qualcosa a cui tutti noi siamo iniziati e che tutti noi conosciamo, che tutti noi parliamo, che è la lingua dei nostri genitori, dei nostri padri, in quanto parlanti, e poi la lingua colta che soltanto pochi possono conoscere, ma che è una lingua fittizia, artificiale, costruita ad arte dai grammatici. Dante, quindi, in questo modo, procede attraverso una distinzione, così si dice Carlossini, di tre lingue. La prima, il latino dei letterati. Infine, il volgare illuminato da parte dei letterati, colti, e poi il volgare degli illetterati, che manca della eloquenza, della capacità critica di giudizio, che invece è propria di quel volgare che viene utilizzato talvolta dai letterati. Il volgare, potremmo identificarlo, quello colto, il volgare elevato, nel volgare che la Divina Commedia stessa propone, cioè che quella commedia dantesca è ovviamente, né testimonianza. Ebbene, ci sono queste differenze, quindi, tra il latino, il volgare colto, e il volgare degli illetterati. La lingua volgare, secondo Dante, appunto, viene appresa da chi ci sta attorno, lo ha già detto, è la lingua materna, viene appresa dalla vaglia, ed è appresa dagli amici, dai parenti, ma soprattutto, appunto, da chi, nel momento aurorale della nostra iniziazione al linguaggio, da infanti che siamo, quindi la vaglia, ci avvia questo processo di comprensione e conoscenza della lingua. La lingua materna è la più nobile, infatti, perché, secondo Dante, è ciò che ci distingue dagli animali e anche dagli angeli, cioè, tanto l'animale quanto l'angelo non parla. L'angelo è in una contemplazione intuitiva di esperienza diretta del divino, esperienza, in qualche modo, mistica, indicibile, mentre l'animale, in questo senso, non ha possibilità di conoscere, perché è come noi, ma senza la lingua, non è senza il linguaggio, naturalmente, ha una forma di comunicazione elementare, adesso Dante non si addentra in questa analisi di carattere linguistico e etologico al contempo, ma naturalmente nota che gli animali non hanno questo linguaggio che contraddistingue gli esseri umani in quanto tali. Ma, allo stesso punto, l'abbiamo notato già prima, questo testo viene scritto in latino, che però non è una lingua, non è la lingua in cui Dante stesso pensa, Dante pensa nella lingua della baglia, nella lingua materna, appunto, e tuttavia decide di scrivere in questa lingua che è falsifica, che è artificiale, e che per qualcuno, come Dante, che è un uomo estremamente colto, diventa come una seconda natura, una lingua che viene interiorizzata a tal punto da diventare qualcosa con cui si ha una grande dimestichezza, ma che tuttavia non ha l'elemento vivo della lingua con cui si pensa quotidianamente. E questo fatto di avere scritto in latino il De Volgari Eloquenzi è basato su un pregiudizio che gli è dovuto, secondo quanto riporta Carlos Sini, al maestro Brunetto Latini, secondo cui, secondo il quale pregiudizio, la lingua esprime a beneficio altrui ciò che la mente ha concepito. Cioè, si ritiene, in questo senso, che la mente concepisce soltanto ciò che si può dire in un certo modo, detto in altri termini perché temo di non essere stato sufficientemente chiaro. La lingua, secondo Dante, non è qualcosa, come invece Carlos Sini ritiene, che consente il parlare. Cioè, la mente, secondo Carlos Sini, può pensare soltanto ciò che la lingua gli consente di pensare. Secondo Dante c'è un pensiero prelinguistico e poi questo può essere tradotto in linguaggio. E questo pensiero prelinguistico è concepito dalla mente e poi tradotto in un'altra lingua. E quindi, a questo punto, ecco che il latino è la lingua migliore per comunicare ad altri, ad altri intellettuali che hanno, che naturalmente, in quanto intellettuali, tutti sono a conoscenza del latino, per comunicare ad altri in maniera più chiara questo, ciò che ha in mente lo stesso Dante, indipendentemente dalla lingua in cui pensa, in cui si esprime. Quindi, si intende sostanzialmente, secondo il paradigma aristotelico, il linguaggio come un medium sensibile, così dice Carlos Sini riferendosi al filosofo Stagirita. E quindi, non c'è, invece, secondo Carlos Sini, questo mezzo sensibile, che può essere il linguaggio appunto parlato e scritto, che trasferisce dei contenuti razionali indipendenti. Questa dinamica, questa meccanica di trasmissione dei contenuti da una mente all'altra attraverso il linguaggio come se fosse qualcosa di immediato, cioè, come se fosse immediata la relazione tra i contenuti noetici, irrazionali della mente e la loro espressione, è per Carlos Sini qualcosa di falso. Abbiamo già visto come la psicologia contemporanea, la psicologia di Unghiana mettono in evidenza anche altre realtà, ma questa è la posizione forte, una sorta di forte presa di posizione nei confronti di un determinismo linguistico, possiamo dirlo per semplificare ovviamente tutto questo ragionamento che accomuna il percorso e l'iter intellettuale e filosofico di Carlos Sini. E con questo arriva poi Carlos Sini a proporre la sua ultima riflessione nell'ultimo paragrafo di questo capitolo dedicato al De vulgari eloquenzia. E Carlos Sini osserva come Dante noti in realtà la pluralità di forme di vita e linguistiche che sono presenti in Italia, ma allo stesso tempo ritiene che vi sia una grammatica che è inalterabile, così scrive, inalterabile identità di linguaggio attraverso luoghi e tempi diversi ed ha ricevuto le proprie regole dall'unanime consenso di molte genti. Ecco, Dante ritiene questo nel De vulgari eloquenzia, ritiene che vi sia un elemento logico originario fondamentale, una struttura logica che sta al di là delle differenti manifestazioni linguistiche tanto in Italia quanto in generale nel mondo che quindi consente di raggiungere una identità pura del linguaggio, cioè qualcosa di metastorico, di trasversale, di transculturale e di metaculturale allo stesso tempo che è al di là e in tutte le culture in quanto è l'elemento che ha ricevuto le proprie regole dall'unanime consenso di molte genti. E quindi ecco che Dante si mette a ricercare questa grammatica eterna, potremmo dire, che lui stesso ritiene esistente e la ricerca in tutta una serie di volgari che vengono parlati in Italia, perché la ricerca viene fatta in Italia, ovviamente nell'Italia del suo tempo, quindi del 300 fondamentalmente, e ecco che cosa fa Dante? Ricerca quel volgare che mostre di appoggiarsi sulla grammatica comune a tutti, cioè vuole avere un volgare che esprime al meglio questa grammatica originaria che accomuna tutti i linguaggi. Traccia una prima carta linguistica d'Italia in questo senso, da cui risulta l'evidenza di una vera lingua italiana che chiunque sa riconoscere senza coincidere in alcuna forma particolare, cioè traccia questa infinità di dialetti che si parlano in Italia in maniera autonoma, con le sue sole forze, e ritiene che però chi sappia identificare la grammatica pura originaria dell'identità del linguaggio in quanto tale, poi sa rintracciare questo elemento comune in tutte le varie manifestazioni che ci sono nei vari dialetti. Quindi diviene in qualche modo l'unità di misura con cui giudicare questa grammatica pura che lui ha intuito ma che non sa identificare nessuna delle lingue particolari appunto, questa diviene l'unità di misura con cui giudicare i vari volgari presenti in tutto il paese italico. Quindi cerca di giudicare questo o quell'altro volgare. Volgare che cosa significa? volgare significa parlato dal vulgus cioè dalle persone comuni e quindi questa unità invece è un'unità astratta ideale non mai sensibilmente data in nessun volgare parlato concretamente da qualcuno e proprio questa unità ideale cerca di essere rintracciata come più o meno prossima nelle varie forme dialettiche dialettali linguistiche e ritrova proprio nel bolognese la lingua più bella d'Italia la meno inadeguata in qualche modo non è il volgare illustre che è questa forma grammaticale elementare identitaria comune a tutte le manifestazioni della lingua italiana in questo caso non è il volgare illustre il bolognese perché questo volgare illustre non concede lo ripetiamo e così lo ripete anche carlosini con nessuna delle varie istanziazioni particolari ma questo volgare illustre è più simile al bolognese del tempo tra l'altro noi sappiamo che proprio la città di Bologna e fa notare così carlosini era la città in cui andava da piccolo e che frequentò durante l'esilio tra il 1303 e il 1304 lo stesso Dante e quindi c'è un legame anche biografico personale con la città di Bologna motivo per il quale suppone lascia intendere carlosini sia stato scelto proprio questo tipo di dialetto ecco il volgare quindi è il volgare un po' più simile a questo volgare illustre il volgare bolognese e ovviamente non è il fiorentino e la cosa sembra sembra strana perché d'altronde la sua opera più importante è stata scritta nel volgare ma nello specifico nel volgare fiorentino però accanto a questo volgare illustre Dante che Dante chiama anche volgare aulico trova una forma molto interessante di volgare illustre anche nella dialetto non polonese ma fiorentino non è in realtà il volgare illustre il volgare aulico lo abbiamo già detto non coincide con nessuna manifestazione ma è quello che fondamentalmente si trova nella corte di Federico II secondo appunto Dante la lingua letteraria in qualche modo fittizia dei poeti siciliani alla corte di Federico II è qualcosa di simile al volgare illustre però a questo punto tutte le riflessioni che sono state fatte prima sulla lingua che si appare che si apprende nella relazione con la baglia nella relazione con la madre col padre con la famiglia con i genitori sembra qui perdere di efficacia nel momento in cui si afferma e si sostiene che il volgare aulico il volgare illustre possa coincidere proprio con questo volgare della lingua letteraria dei poeti siciliani che non ha niente a che vedere in realtà con la lingua parlata da nessuno è una lingua anch'essa fittizia è una lingua anch'essa che è stata creata con lo scopo di trasmettere dei contenuti letterari di creare delle poesie e quindi non ha alcuna relazione col volgare in conto tale col volgare appreso dalla baglia come lingua materna quindi sembra perdersi un po' quel discorso fa notare carlosini e purtuttavia è ritenuto dallo stesso dante la forma più adeguata per esprimere quel volgare illustre quel volgare aulico che dovrebbe essere quell'elemento che accomuna in maniera identitaria originaria ancorché astratta tutte le varie manifestazioni del volgare qui quindi appare evidente una forma di contraddizione secondo carlosini nel suo ragionamento che però appunto si limita a dire questo la parte successiva di cui ci occuperemo è la proprietà dei nomi questo capitolo che vedremo essere anch'esso di grande rilievo culturale grazie a tutti